salve a tutti ragazzi io sono marcia ci siamo in un nuovo video sono struccata sono vestita con questa maglia che mi devo cambiare mi devo preparare e truccare perché dopo arriva amma e andremo a castellarano al rockville scusate aiuto che è una discoteca di castellarano stasera ci sarà un evento di un amico di matteo che è chris car che il nome qui andate a seguire su instagram e seguitelo anche su youtube perché è molto bravo a fare come ok sono pronta sono truccata ho fatto i capelli ho messo questa maglia che ho preso molto bella da terra nuova e di normali pantaloni della tuta e niente c'è l'amma guardate come dire sta vloggando amo qua ci sono i due i videogiochi la c'è sempre un'ambra selvatica ragazzi abbiamo fatto una comment saluto ciao guardate com'è bella qua dentro si sta un sacco freschi ragazzi comunque sta veramente bene tra poco ripartiamo che andiamo a castellarano alla discoteca perché l'ambra non vuole mai essere intesa ragazzi comunque no torniamo alla discoteca tra minuto sono pronta fare una pausa perché siamo un po stanchine quindi un bacio raga sono le 8 45 stiamo aspettando insieme chris guardate c'è anche lei che sta al telefono stiamo aspettando chris vi saluto mando un bacione e noi siamo più tardi noone's gotta know what you do make me young when you fart in my life feels all day down the street so hit me what you need and it's yours a lot of years nothing feels better nothing feels better nothing feels better nothing feels better we don't gotta hide this is funny like brent nothing feels better you say musica 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 Buongiorno ragazzi, io mi sono svegliata da poco, sono venuta in camera di miei per appunto a chiudere il vlog perchè le mie serate sono arrivati tipo che erano le due e mezzo, sono troppo stanca, comunque spero che il vlog vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo in un prossimo video, spero che vi sia piaciuto, seguite Chris Carr su Instagram, mi raccomando, Matteo, la Jenny, tutti quelli che vi taggo di sotto, seguiteli, ma Chris Carr mi raccomando, ve lo lascio qua, seguitelo, niente, spero che vi sia piaciuto, il prossimo video è un bacione e se siete arrivati a questo punto del video commentate con hashtag macchina, un bacio grazie grazie grazie